Il 24 gennaio, mercoledì, alle 18.30, ci sarà un altro incontro con me, via web, dal titolo Impara a vivere senza ansia. Non so perché, ma ci è formata l'idea, secondo me molto sbagliata, che l'ansia deve far parte della nostra vita. No, l'ansia diventa parte della nostra vita perché il nostro atteggiamento mentale continua a crearla. Pensate, l'ansia la produciamo noi dal profondo. Scende in campo per darci qualcosa, non per toglierci qualcosa. Allora ci vuole la mente adatta intanto a guardare l'ansia nel modo giusto, due a trasformarla in immagini e tre, la cosa più importante, a sapere che per il fatto che ho l'ansia c'è tanta vitalità, tanta energia vitale, che vuole scendere in campo. Ecco, in questo gruppo, nel 24 gennaio, faremo insieme esercizi, useremo tecniche, proprio per trasformare l'ansia in energia vitale. Perché questo è il compito che l'ansia si assume per noi. Questo è il compito che abbiamo, di guardarla come un'alleata per trovare lati della nostra personalità che non stiamo vivendo. E la cosa incredibile è che è molto più facile di quello che si pensa. A se anziché continuare a ragionarci sull'ansia, cominciamo a viverla come una presenza dentro di noi, possono accadere vere e proprie magie. Vi aspetto.